Cuneo si veste d'autunno, ed ecco che le temperature ormai rigide e tipiche del periodo sono finalmente tornate a scontrarsi con il calore del fuoco e delle braci per le calde arroste. Quel profumo casalingo e vocativo ha avvolto Piazza Gallimberti per la ventiduesima edizione della Fiera Nazionale del Marrone, rituffando i cunesi in una delle manifestazioni più rappresentative della città. Dopo il rinvio, lo scorso anno, quest'anno una versione è rivisitata, senza degustazioni e con ingresso solo con Green Pass. Dopo il rinvio dell'anno scorso, la Fiera del Marrone è tornata con la ventiduesima edizione. Com'è stata? È stata un'impresa, è stata una sfida, l'abbiamo accolta con coraggio e con entusiasmo e devo dire che abbiamo faticato ma siamo davvero tanto soddisfatti perché finalmente rivediamo tante persone a Cuneo e anche tanti turisti e questo non fa che farci un immenso piacere. Ecco un po' il segnale della ripresa, l'assaporare un pochino la ripartenza. Sì, in effetti proprio prima parlavo con delle persone, ci ricordavamo l'ottobre dello scorso anno ancora con le mascherine e la gente che aveva paura di uscire, invece adesso devo dire che sono tutti molto diligenti, indossano le mascherine, hanno accettato di buon grado anche di dover accedere col Green Pass, ma ci sono davvero tante tante persone e questo è bello perché la gente aveva bisogno di tornare a fare socialità, di ritrovarsi per dei momenti anche di spensieratezza. Quanti turisti sono passati a questa edizione all'incirca? Ma allora, diciamo no, ho dei dati più certi perché comunque contingentando gli accessi con il Green Pass abbiamo anche dei numeri certi, diciamo che siamo già quasi a 20.000 accessi, quindi devo dire che insomma è un gran bel numero per essere il primo giorno e mezzo di evento, siamo sui 18.000 accessi, quindi devo dire che siamo davvero molto molto soddisfatti. Turisti da tutte le parti e anche d'Oltralpe, giusto? Ma d'Oltralpe sì, diciamo che girando si sente parlare molto il francese, si sente parlare anche il tedesco, l'inglese, quindi devo dire che la Fiera del Marrone attrae sempre moltissimo anche gli stranieri ed è questo che è importante perché sicuramente è bello promuovere il nostro territorio nei confini italiani, ma è anche bello poter far vedere quanto abbiamo da dire e da dare anche agli stranieri. Infine, nei tre giorni della Fiera inizietta venerdì e conclusa domenica, sono entrate 55.297 persone, ovvero il numero dei Green Pass scansionati all'accesso ai 118 stand allestiti in Piazza Galimberti, 22.000 circa sabato e 23.000 circa domenica, quando c'era anche il mercato straordinario con 250 ambulanti in corso Nizza, l'adunata nazionale degli uomini di mondo, oltre a un'esibizione della fanfara di Asti come anticipo del 69esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che sarà a Cuneo dal 16 al 22 maggio 2022.